Leo! Ci sarebbero voluti ben altro che due minuti. Leo sperò di aver consegnato a ognuno il dispositivo giusto e di aver spiegato bene a cosa servissero tutti i pulsanti. Altrimenti le cose avrebbero potuto mettersi male. Mentre lui istruiva Frank e Percy sui meccanismi di Archimede, Hazel teneva lo sguardo fisso sull'arco di pietra e mormorava a mezza bocca. Non apparvero cambiamenti nel grande campo erboso, ma Leo era sicuro che Hazel aveva diversi assi di foschia nella manica. Stava spiegando a Frank come non farsi decapitare dalla propria sfera di Archimede quando un suono di trombi riecheggiò nello stadio. La biga di niche comparve sul campo e le nichette vi si disposero di fronte con le lance e le corone d'alloro alzate. «Che la battaglia abbia inizio!» tuonò la dea. Percy e Leo sfrecciarono fuori dal tunnel e subito il campo scintillò, trasformandosi in un labirinto di mattoni e trincee. A testa china corsero verso sinistra dietro il primo muro. Ancora nel tunnel, Frank urlò «A morte, marmaglia greca!» e una freccia scoccata male volò sopra la testa di Leo. «Puoi fare di meglio!» urlò Nike. «Ammazzali!» Leo lanciò un'occhiata a Percy. «Pronto!» Percy sollevò una granata di bronzo. «Spero che tu ci abbia messo le etichette giuste!» gridò «A morte, Romani!» e scagliò la granata oltre il muro. Boom! Leo non poteva vedere l'esplosione, ma il profumo di popcorn al burro si sprigionò nell'aria. «Oh no!» gemette Hazel. «Popcorn! Il nostro tallone d'Achille!» Frank scoccò un'altra freccia troppo alta. Leo e Percy corsero via a Capochino, attraverso un labirinto di pareti in muratura che sembravano muoversi e cambiare direzione da sole. Leo riusciva ancora a vedere il cielo sopra la sua testa, ma la claustrofobia cominciava a farsi sentire, e già gli mancava un po' il fiato. Da qualche parte alle loro spalle, Nick estrepitò «Impegnatevi di più! Quei popcorn non erano mortali!» Dal rombo delle ruote della sua biga, Leo intuì che la dea stava correndo lungo il perimetro del campo. Vittoria stava facendo il giro della vittoria. Un'altra granata esplose sopra le loro teste. Si tuffarono in una trincea, mentre l'esplosione verde di un fuoco greco bruciacchiava la punta dei capelli di Leo. Per fortuna Frank aveva mirato abbastanza in alto, quanto bastava fare scena. «Così va meglio!» gridò Nick. «Ma che fine ha fatto la tua mira? Vuoi o non vuoi questa corona d'alloro?» «Vorrei che il fiume fosse più vicino!» Pronto l'ho persi fra i denti. «Ho una gran voglia di affogarla!» «Porta pazienza, Aquaman! Non chiamarmi Aquaman!» Leo indicò in fondo al campo. Le pareti si erano spostate, scoprendo una delle nichette a una trentina di metri di distanza di spalle. Hazel si stava dando da fare. Manipolava il labirinto per isolare i bersagli. «Io la distraggo!» disse Leo. «E tu la attacchi, pronto?» Persi annui. «Vai!» Mentre lui scattava a sinistra, Leo tirò fuori un martello da muratore dalla cintura degli attrezzi e gridò «Ehi, chiappe di bronzo!» La nichetta si voltò nell'istante in cui Leo lanciava. Il martello picchiò sul petto metallico della donna ed ebbe un solo effetto. Infastidirla. Quella marciò verso di lui, sollevò la corona dal loro spinato e la lanciò. «Ups!» Leo schivò il colpo abbassando la testa. La corona piombò su un muro alle sue spalle, aprì un buco nella muratura e tornò indietro come un boomerang disegnando un arco nell'aria. Quando la donna alzò la mano per riprenderla, Persi sbucò dalla trincea e mozzò la nichetta di netto all'altezza della vita. La corona boomerang proseguì il suo cammino e finì con l'incastrarsi in una colonna di marmo. «Fallo!» gridò la dea della vittoria. Le pareti si mossero e Leo la vide precipitarsi verso di loro sulla sua biga. «Se trincea comparve all'improvviso sul tragitto della dea. I suoi cavalli si impuntarono. Leo e Persi corsero a ripararsi. Con la coda dell'occhio, a pochi metri di distanza, Leo vide Frankie il grizzly che saltava giù da un muro, schiacciando un'altra nichetta sotto il proprio peso. «Due chiappe di bronzo andate! Avanti le prossime!» «No!» strepitò Nike indignata. «No, no, no! Siete spacciati! Nike all'attacco!» Leo e Persi saltarono dietro un muro e si fermarono per qualche secondo a riprendere fiato. Leo faticava a orientarsi, ma capiva che anche questo faceva parte del piano di Hazel, che continuava a mutare il terreno intorno a loro, apriva nuove trincee, modificava la pendenza, innalzava muri e colonne. Con un po' di fortuna, le nichette non li avrebbero trovati facilmente. Hazel le costringeva a impiegare diversi minuti per spostarsi anche solo di pochi metri. Nonostante tutto, però, Leo detestava essere disorientato. Gli ricordava il senso di inutilità che aveva provato nella casa di Ade, il modo in cui Clizio lo aveva soffocato nelle tenebre, spegnendo il suo fuoco, impossessandosi della sua voce. Gli ricordava Chione, che con un soffio di vento lo sollevava dal ponte del Largo 2 e lo scaraventava in mezzo al Mediterraneo. Già non era uno spasso essere debole e mingerlino. Se non poteva controllare più nemmeno i propri sensi, la voce, il corpo, non gli restava molto su cui contare. Ehi, disse Persi, se non ne usciamo vivi, ehi, non dirlo nemmeno, bello, ce la faremo. Se non ne usciamo vivi, voglio che tu sappia che mi dispiace per Calipso. L'ho abbandonata. Leo lo guardò sbigottito. Tu sai di me, Largo 2 è piccola. Persi fece una smorfia, e le voci corrono. È solo che... beh, quando ero nel Tartaro, mi sono ricordato che non avevo mantenuto la mia promessa con Calipso. Ho chiesto agli dèi di liberarla, e poi... beh, ho dato per scontato che lo avrebbero fatto. E dopo, con l'amnesia, il Campo Giove e tutto il resto, non ho più pensato molto a lei. Non sto cercando scuse. Avrei dovuto accertarmi che gli dèi mantenessero la parola. Comunque sono felice che tu l'abbia trovata. Hai giurato di escogitare un modo per tornare da lei. E volevo solo dirti che se ne usciamo vivi, farò qualsiasi cosa in mio potere per aiutarti. E questa è una promessa che ho tutte le intenzioni di mantenere. Leo era senza parole. Erano lì, nascosti dietro a un muro nel bel mezzo di una zona di guerra magica, alle prese con granate, grizzly e nichette dalle chiappe di bronzo, e Persi gli tirava uno scherzo del genere. Di un po', ma che problema mai, prontolò. Persi sbatte le palpebre. Vuoi... vuoi dire che non mi perdoni? Certo che no! Sei tale quale a Jason! Io cerco in tutti i modi di avercela con te perché sei perfetto e supereroico e non so più che altro. E tu te ne vieni fuori così, a dimostrarmi pure che sei uno in gamba. Mi spieghi come faccio a odiarti se mi chiedi scusa e poi prometti addirittura di aiutarmi. Un sorriso divertito comparve agli angoli della bocca di Persi. Eh, scusa? La terra tremò per l'esplosione di un'altra granata, che proiettò in aria alti schizzi di panna montata. È il segnale di Hazel, disse Leo. Hanno messo al tappeto un'altra nichetta. Persi si affacciò a sbirciare oltre il muro. Fino a quel momento Leo non si era reso conto di quanto ce l'avesse con Persi. Quel tizio lo aveva sempre intimidito, e sapere che Calypso aveva avuto una cotta per lui aveva amplificato la sensazione. Ma adesso il nodo di rabbia attorcigliato nel suo stomaco cominciò a sciogliersi. Come poteva stargli antipatico ormai? Le sue scuse e la sua disponibilità sembravano sinceri. E poi, Leo aveva finalmente avuto la conferma che fra Persi, Jackson e Calypso non poteva più esserci nulla. La faccenda si era chiarita una volta per tutte. Ora non gli restava che ritrovare la strada per Ogigia. E ci sarebbe riuscito. Ammesso ovviamente che fosse sopravvissuto nei prossimi dieci giorni. Rimane solo una nichetta, disse Persi. Chissà do... Da qualche parte nelle vicinanze, Hazel lanciò un grido sofferto. Leo scattò subito in piedi. Ehi, aspetta! Esclamò Persi, ma l'altro si era già lanciato nel labirinto, il cuore in gola. Le pareti scomparvero all'improvviso. Leo si ritrovò in un tratto di campo scoperto. Frank era dalla parte opposta dello stadio e scagliava frecce infuocate contro la biga di Nike, mentre la dea rugiva insulti e cercava di raggiungerlo avanzando a fatica fra le trincee, che mutavano in continuazione. Hazel era più vicina, forse a una ventina di metri di distanza. La quarta nichetta l'aveva colta di sorpresa. Cercava di allontanarsi zoppicando, con i jeans strappati e la gamba sinistra insanguinata. Parava i colpi della lancia dorata con la sua lunga spada da cavalleria, ma stava per essere sopraffatta. Tutti intorno a lei. La foschia tremolava, come una luce stroboscopica che si spegne. Stava perdendo il controllo del labirinto magico. L'aiuto io, disse Percy. Tu attieniti al piano, prendi la biga di Nike. Ma il piano era di eliminare prima tutte le nichette. Allora cambia il piano e attieniti a quello nuovo. Non ha nessun senso, però va bene. Vai, aiutala. Percy corse a difendere Hazel. Leo scattò verso Nike, urlando, «Ehi, anch'io voglio un premio di partecipazione!» «No!» La dea tirò le redini e voltò la biga nella sua direzione. «Ti distruggerò!» «Bene!» gridò Leo di rimando. «Perdere è molto meglio che vincere!» «Cosa?» Nike lanciò la sua poterosa lancia, ma gli scossoni della biga le fecero sbagliare Mira e l'arma finì in mezzo all'erba. Purtroppo, una nuova lancia comparve subito nelle sue mani. La dea spronò i cavalli al galoppo. Le trincee scomparvero e lei si ritrovò in campo aperto, il terreno ideale per mettere sotto le ruote un piccolo semidio ispano-americano. «Ehi!» urlò Frankie in fondo allo stadio. «Anch'io voglio un premio di partecipazione! Così vinciamo tutti!» Scoccò una freccia ben mirata, che atterrò sulla pedana della biga e prese fuoco. Nike la ignorò. Aveva gli occhi fissi su Leo. «Persi!» chiamò Leo, la voce simile allo squittio di un criceto. Poi pescò una sfera di archimede dalla cintura degli attrezzi e regolò i cerchi concentrici per armare il dispositivo. Persi stava ancora duellando con l'ultima donna di metallo. Leo non poteva aspettare. Lanciò la sfera sul tragitto della biga. L'arma toccò terra e vi rimase incagliata, ma c'era bisogno di Persi per far scattare la trappola. Anche se Nike percepiva una minaccia, sembrava non darle peso. Continuò la sua carica verso Leo. La biga era a sei metri dalla granata. «Quattro!» «Persi!» strillò Leo. «Operazione gavettone!» Purtroppo, Persi era un tantino occupato a prenderle di brutto. La nichetta gli diede prima una spinta con l'asta della lancia, poi lo disarmò con un colpo violento della corona dall'oro. Persi inciampò. La donna di metallo si preparò al colpo di grazia. Leo urlò con tutte le sue forze. Sapeva di essere troppo lontano. Sapeva di doversi togliere subito di mezzo se non voleva farsi investire da Nike. Ma non gli importava. I suoi amici stavano per essere infilzati. Spinse in avanti una mano e lanciò un getto di fuoco incandescente verso la nichetta. E le sciolse letteralmente la faccia. La donna di metallo barcollò, la lancia ancora alzata. Ma prima che potesse recuperare l'equilibrio, Hazel le conficcò la spata nel petto. E lei si schiantò nell'erba. Persi si voltò verso Nike. Un attimo prima che i due enormi cavalli bianchi mettessero sotto Leo, la biga passò sopra la granata sepolta che esplose come un geyser. Una colonna d'acqua si inalzò verso il cielo, rovesciando la biga. Cavalli, telaio, dea e quant'altro. Quando viveva a Houston, Leo e sua madre abitavano in un appartamento vicino all'autostrada. Sentivano il rumore di un incidente automobilistico almeno una volta alla settimana, ma il fracasso che si levò in quell'istante fu peggiore. Bronzo celeste che si accartocciava, legno che si frantumava, stalloni che urlavano e una dea che rimeva con due voci distinte, entrambe sbigottite. Hazel crollò a terra. Persi la raccolse. Frank scattò per raggiungerli. Leo era ancora solo quando Nike riuscì a districarsi dal caos e si levò ad affrontarlo. L'alta conciatura della dea, adesso, assomigliava a una grossa cacca di mucca calpestata. Una corona d'alloro l'era rimasta impigliata alla caviglia sinistra. I suoi cavalli si rimisero in piedi e galopparono via in preda al panico, trascinandosi dietro, il relitto fradicio e fumante della biga. Tu! Nike lo squadrò infuriata, gli occhi più incandescenti e brillanti delle sue ali metalliche. Come osi! Leo non si sentiva molto coraggioso, ma si sforzò di sorridere. Eh, lo so, sono fantastico, vero? Ho vinto un cappello di foglie? Tu morirai! La dea sollevò la lancia. Aspetta! Leo frugò nella cintura degli attrezzi. Non hai ancora visto il mio trucco migliore? Ho un'arma capace di vincere qualsiasi competizione, garantito! Nike esitò. Quale arma? Come sarebbe? La mia Super Zapmatic? Leo tirò fuori una seconda sfera di Archimede, quella alla cui modifica aveva dedicato trenta interi secondi prima di stare nello stadio. Quante corone d'oro hai? Perché le vincerò tutte? Ruotò i vari quadranti, sperando di avere fatto bene i calcoli. Era diventato più abile a costruire le sfere, ma non erano ancora del tutto affidabili. Diciamo che lo erano... al 20%. Sarebbe stato bello se ci fosse stata Calypso ad aiutarlo a tessere i filamenti di bronzo celeste. Era bravissima con il telaio. Neanche Annabeth sarebbe stata male. Ma lui aveva fatto del suo meglio, riprogrammando la sfera per svolgere due funzioni completamente diverse. Ammira! Leo fece scattare l'ultimo quadrante. La sfera si aprì. Una metà si allungò fino a formare l'impugnatura di una pistola. L'altra si dispiegò nel disco di un radar in miniatura, fatto di specchi di bronzo celeste. Nike aggrottò la fronte. Che roba è? Il raggio mortale di Archimede, rispose Leo. Finalmente sono riuscito a perfezionarlo. Ora dammi tutti i premi. Quell'affare non ha mai funzionato, strillò Nike. Lo hanno dimostrato anche in tv. E poi io sono una dea immortale, tale! Non puoi distruggermi! Osserva bene, replicò Leo. Stai guardando? Nike avrebbe potuto ridurlo a una pozza di melma in mezzo all'erba o infilzarlo come uno spiedino, ma la curiosità ebbe la meglio. Fissò dritto il disco e Leo fece scattare l'interruttore. Sapeva di dover guardare altrove, ma nonostante questo, il raggio di luce accecante le riempì la vista di puntini luminosi. No! La dea barcollò. Lasciò cadere la lancia e si portò le mani agli occhi. Non ci vedo! Non ci vedo! Leo premette un altro pulsante del suo raggio mortale. La sfera tornò integra e prese a sibilare. Lui contò fino a tre. Poi scagliò l'arma ai piedi della dea. Fum! I filamenti di metallo si sprigionarono verso l'alto, avvolgendo Nike in una rete di bronzo. La dea lanciò un gemito e cadde su un fianco, mentre la rete si stringeva, obbligando le sue due forme, greca e romana, a ricompattarsi in un tutto tremolante e sfocato. Inganno! Tradimento! Le due voci ronzavano come l'allarme soffocato di una sveglia. Il tuo raggio mortale non mi ha ucciso! Non ho bisogno di ucciderti, ribatte Leo. Però ti ho sconfitto lo stesso! Cambierò forma! Gridò la dea. Strapperò questa stupida rete! Ti distruggerò! Sì, certo, come no! Non puoi! Leo sperò di avere ragione. Questa rete è fatta di bronzo celeste di prima scelta e io sono un figlio di Efesto. E lui è bravissimo a catturare le dee nelle reti. Un vero esperto! No! No! Leo la lasciò lì a dimenarsi a imprecare e andò a vedere come stavano gli altri. Percy sembrava a posto, solo un po' ammaccato. Frank aveva sollevato Hazel e le stava dando da mangiare dell'ambrosia. La ferita sulla sua gamba aveva smesso di sanguinare, anche se i jeans erano a pezzi. Sto bene, disse. Troppa magia, tutto qui. Sei stata magnifica, Leveque! Leo fece del suo meglio per imitarne la voce. Popcorn, il nostro tallone d'Achille! Lei sorrise debolmente. Insieme tutti e quattro tornarono da Nike, che stava ancora gemendo e sbattendo le ali nella rete come un grosso pollo dorato. Cosa ne facciamo? Chiese Percy. La portiamo a bordo, disse Leo, e la molliamo in una delle stalle. Hazel sgranò gli occhi. Vuoi mettere la dea della vittoria in una stalla? Perché no! Quando avremo sistemato le cose fra greci e romani, gli dei torneranno in sé. E allora potremmo liberarla. E lei potrà... sì, accordarci la vittoria. Io accordare a voi la vittoria? gridò la dea. Mai! Sarete puniti per questo oltraggio! Il vostro sangue sarà versato! Uno di voi, uno di voi quattro, è destinato a morire combattendo contro Gea! Lo stomaco di Leo si strinse in un nodo. E tu come lo sai? Io so prevedere le vittorie, strillò Nike. Non avrete successo senza morte! Liberatemi e combattete! Sarà meglio per voi morire qui piuttosto che affrontare quello che verrà! Hazel posò la punta della sua spada sotto il mento di Nike. Spiegati! Leo non l'aveva mai sentita a parlare con un tono così duro? Chi di noi morirà? Come possiamo impedirlo? Ah, figlia di Plutone! La tua magia ti ha aiutato a imbrogliare in questa gara, ma non puoi ingannare la sorte! Uno di voi morirà! Uno di voi dovrà morire! No! Insiste Hazel. C'è un altro modo! C'è sempre un'altra via! È stata Ecate a insegnartelo! Nike rise. Speri forse nella cura del medico? Ma questo è impossibile! Sono troppi gli ostacoli sul vostro cammino! Il veleno di Pilos! Il cuore che batte nel dio incatenato a Sparta! La maledizione di Delo! No, non potete ingannare la morte! Frank si inginocchiò, raccolse in un pugno la rete sotto il mento di Nike e le sollevò il viso, avvicinandolo al suo. Di cosa stai parlando? Come troviamo questa cura? Non vi aiuterò, ringhiò Nike. Vi maledirò con il mio potere, rete o non rete! Cominciò a mormorare in greco antico. Frank alzò lo sguardo, accigliato. Può davvero lanciare un incantesimo attraverso la rete? Che accidente ne so, rispose Leo. Frank lasciò andare la dea. Si tolse una scarpa, si sfilò un calzino e glielo ficcò in bocca. Amico mio, commentò Percy. Che schifo! Gemette Nike. Leo, hai del nastro adesivo? Chiese Frank. Non esco mai senza. Leo tirò fuori un rotolo di nastro adesivo dalla cintura e nel giro di un attimo, Frank l'aveva già avvolto attorno alla testa della dea, fissando il bavaglio che le chiudeva la bocca. Beh, non è una corona d'alloro, concluse Frank, ma è un nuovo tipo di ornamento della vittoria. Il bavaglio adesivo. Giang, commentò Leo, hai classe da vendere. Nike si dimenò e sbuffò, finché Percy non le diede una spintarella con la punta del piede. Ehi, calma! Fai la brava! O richiameremo Arion e gli diremo di fare merenda con le tue ali. Lui va pazzo per l'oro. Nike lanciò uno strillo soffocato, ma poi si zitti. Allora... Hazel sembrava un po' nervosa. Abbiamo una dea legata come un salame. E adesso... Frank incrociò le braccia. Andiamo a cercare la cura di questo medico, qualunque cosa sia. Perché, almeno per quanto mi riguarda, adoro ingannare la morte. Leo sogginò. Il veleno di Pilos? Il cuore che batte nel dio incatenato a Sparta? Una maledizione a Delo? Oh, sì. Sarà divertente. Noi. Noi. Noi.